Cari amici siamo ancora una volta insieme, appuntamento speciale, un appuntamento che vede protagonista City Emotion e il volto che tutti voi riconoscete, quello di Ryan a guidarci. Ciao Ryan. Ciao Stefania, grazie per la presentazione e vi ricordo il nostro indirizzo in Corso Moncaglieri 468 a Torino. Bene, devo dire un indirizzo che ormai tutti quanti conoscono, un vero e proprio punto di riferimento quando si parla di Urban Mobility, concessionario ufficiale delle migliori marche del settore. Aixam, Chatenet e chi più ne ha più ne metta, è così? Assolutamente sì, ricordiamo ancora Liget, Microcar e Belier, oltre alle minicar trattiamo anche prodotti di tipo automobilistico, quindi autovetture utilitarie, luxury car e vi ricordo le due ruote. Se non ci credete adesso state con noi, il microfono va a Ryan. Come diceva Stefania, la City Emotion è un punto di riferimento per minicar nuove usate, incominciamo da un prodotto Aixam, una City Evo con ABS e tablet in pronta consegna, una splendida GTO, anche questa dotata di ABS e tantissimi accessori che la rendono più sportiva con fronte agli altri modelli e poi ci soffermiamo su una splendida Liget, questa volta parliamo di un modello nuovissimo, una Liget GS50 modello 2017 Club Young, disponibile in più colorazioni, da noi in pronta consegna, ne vediamo un'altra di pari allestimento motorizzata Progress bianco perla e poi passiamo a una vera e propria chicca. Questa volta parliamo di Chatenet, un prodotto limit edition con un allestimento molto particolare sia esterno che interno, tantissimi accessori, è un prezzo davvero incredibile, vi ricordo che è possibile ricevere la minicar al vostro domicilio. Concludiamo poi su una splendida Aixam City Evo, questa volta parliamo di Coupé, quindi una vettura con un design leggermente più lungo, lunga 3 metri esatti, larga 1,50 m come tutte le altre, motorizzata diesel Kubota 480 di cilindrata, l'ultimo motore di nuovissima generazione Euro 4. Abbiamo parlato di Aixam, Chatenet, Liget, non poteva mancare la Microcar, presentiamo una splendida MGO in promozione per voi a 9.990 abbinato a un ottimo finanziamento che vi permette di assicurare la vostra vettura fino a 5 anni con un localizzatore, lo Jack, completamente omaggiato dalla casa. Passiamo poi a una versione di nuovo limitata, questa volta parliamo di Chatenet, SVZ di un colore particolare, nero con bande rosse, interni rossi, volante rosso, è una vettura molto molto particolare, un'altra Chatenet CH26ST, questa volta motorizzata Lombardini Common Rail e poi passiamo al parco dell'usato, una splendida Minauto GT anno 2011 con pochissimi chilometri, 12 mesi di garanzia, condizioni davvero impeccabili, un'altra meravigliosa Bellie B8, questa volta parliamo di una vettura pari al nuovo con 1.600 chilometri, una vettura davvero davvero pochissimo utilizzata e concludiamo poi su una Liget, anche questa motorizzata Lombardini Common Rail, disponibile per voi a una prova gratuita. Il tempo è tiranno ma accogliamo l'occasione per presentare anche qualche autovettura, qui la City Motion come il caso di questa splendida Audi A5, una versione S-Line, cambio automatico 4x4, una versione davvero full optional, una macchina particolarissima, trattasi di una Mazda RX-8, motore 1.3 rotativo Wenkel, condizioni impeccabili con solo i 41.000 chilometri, una splendida Abarth 500, 39.000 sono i chilometri, condizioni impeccabili, gomme nuove, cerchi SS, tettuccio apribile, fare all'oxeno, veramente veramente una vettura meravigliosa. Concludiamo poi su un Suzuki Gran Vitara unico proprietario, 80.000 chilometri, full optional. All'insegna di questa splendida stagione non potevano mancare le due ruote, cominciamo da una splendida Vespa 50 con soli 7.000 chilometri, un veicolo unico proprietario, ci spostiamo poi a un'altra Vespa, questa volta parliamo di 300 GTS, ci spostiamo poi su un Ducati Monster, tantissimi sono gli accessori, pochissimi sono i chilometri, a un prezzo davvero interessante perché si spende 4.900 euro per questo splendido esemplare, un'altra Nuda, un Kawasaki Z 750, anche questa ricchissima di optional, anche questa 4.900 euro e poi concludiamo su una splendida Arlene Davison, edizione limitata, in soli 200 esemplari da venire a vedere in sede. Siamo giunti al termine di questa splendida puntata, presentiamo 3 scooteroni pari al nuovo, incominciamo da un Suzuki Burman 400 2014 con poco più di 1.000 chilometri e poi due splendidi T-Max, entrambi con l'ABS, 1.080 chilometri per uno e 4.000 chilometri per quest'ultimo che è dotato di tantissimi accessori, una preparazione a livello di meccanica e un colore davvero strabiliante. Vi aspettiamo numerosi, vi ricordo il nostro sito cityemotion.it e la nostra pagina Facebook dove potrete essere sempre aggiornati sulle ultime novità City Emotion. A presto, un bacione a tutti.